Marcello Mancini, 44 anni, avvocato camaiorese, consigliere comunale di Forza Italia, eletto lo scorso giugno, entra a far parte del Consiglio Nazionale del Lanci, l'Associazione dei Comuni Italiani. È la prima volta che un rappresentante di Forza Italia della Versilia viene nominato all'interno del Consiglio del Lanci. È stato Enzo Bianco, presidente del Lanci, a comunicarlo a Mancini in una lettera. Tra i temi da portare sul tavolo al primo consiglio c'è la complicata vicenda Bolkestein e la minaccia delle aste per gli stabilimenti balneari. È un incarico sicuramente impegnativo e prestigioso, che quindi mi impegnerà moltissimo. Ovviamente porterò avanti le istanze e le problematiche della Versilia. Ho già dato la mia disponibilità al presidente Enzo Bianco di partecipare ai lavori per quanto riguarda le problematiche del demanio, che ovviamente in Versilia tutti sanno, le problematiche della direttiva Bolkestein. Oltre a Massimo Mallegni voglio ringraziare anche gli altri amici, in particolare anche Atos Pastecchi di Viereggio, che hanno creduto in me e mi hanno dato quella fiducia e che io spero di contraccambiare. Siamo il secondo partito di maggioranza relativa e il primo delle opposizioni nel nostro territorio comunale e questo premio che ci è stato dato a livello nazionale ci gratifica in maniera particolare.